Questa è la storia di una delle coppie più amate uscite da uomini e donne, il famoso dating show di Maria De Filippi. Tutto sembrava una favola, ma ahimè, anche le migliori favole nascondono delle insidie che sono rimaste segrete per un po', ma poi ovviamente sono state sputtaneee davanti a tutta Italia. Benvenuti in un nuovissimo episodio di Spilling the Story. Ciao ragazzi, eccoci finalmente arrivati con una nuovissima puntata di Spirity with me, Cristiano Cervigni. Oggi andiamo a parlare di Giulia Delellis e Andrea Damante, poiché le ultime novità fanno ben sperare, ma anche no, perché poi vi andrò a dire tutto. Ma chi sono io per evitarvi un nuovo Spilling the Story in cui vi vado a raccontare tutta la love story di Andrea Damante e Giulia Delellis dagli inizi fino alla passione, fino alla monetizzazione, fino alla fine totale, fino ai giorni d'oggi, ok? Con gli ultimi scoop e quindi andatevi a mettervi comodi, andate a prendere il vostro drink o snack preferito, as always. Mettete mi piace a questo video, se lo state guardando su YouTube, mi raccomando, iscrivetevi anche al mio canale, perché la maggior parte delle persone che guarda e capita sul mio canale, grazie agli Spilling the Tea, grazie ai gossip, non è iscritto al mio canale, ma cosa aspettate? Vi volete perdere la laurea in spettegolegia data dall'Università di Cristiano Cervigni? Assolutissimamente no, quindi muovetevi, schiacciate quel tastino che per voi non è niente e per me è un grande sostegno. Ma, bando alle ciance, ciancio alle bande, sorso iniziale, e preparatevi perché sarà una storia lunga e tempestosa. Era infatti il lontano 2016. Uomini e donne, soprattutto trono classico, andava super di moda, tutti noi millennials e non solo, pranzavamo super veloce per poi andare diretti davanti alla televisione, ovviamente sintonizzati su canale 5, per passare il primo poperiggio a guardare i nuovi tronisti, perché quelli erano gli anni di super hype e soprattutto le storie d'amore ci facevano sognare, non come ora che duravano tre giorni. Ma i riflettori erano tutti puntati su un nuovo tronista, chiamato Andrea Damante, DJ di Verona, che fin dalle prime puntate ci aveva fatto sperare a noi da casa in qualcosa di super trash, ma anche in qualcosa che ci avrebbe fatto divertire e appassionare. Il suo trono inizia così, un po' d'amblè, fino al mese di febbraio, quando scende da quelle scalinate una ragazza super giovane, aveva infatti all'epoca soltanto 20 anni e che proveniva da Zagarolo, chiamata Giulia, che durante la sua presentazione, perché era scesa per corteggiare Andrea Damante, scioglie il ghiaccio con una frase diventata super epica, ed è questa. Parto col dire che sei un grandissimo stronzo. Tendo il presupposto che sei un grandissimo stronzo, ma questa cosa... No, questa cosa a me non mi disturba per niente, anzi. Io me lo ricordo come se fosse ieri, appena l'ho sentito ho detto no, vabbè, questo è un idolo. Cioè, ciaoone, ma puoi? Nel senso, questo ti elimina in tre secondi, lo hai offeso, super ego riferito, super oh mio Dio, sono tutto io. Si sente in diretta, in televisione, davanti a tre milioni di telespettatori. Darsi dello stronzo, ovviamente non può andare da nessuna parte. Ma invece questa cosa qua fu proprio la scintilla che mancava fino a quel momento ad Andrea Damante, che subito colpito dalle parole e dalla bellezza di questa Giulia Delellis, decide di portarla in esterna e inizia così una nuova conoscenza. Conoscenza che tra i due sfocerà in una bellissima complicità. Si sente e si vede anche la passione, l'attrazione che c'è tra i due, ma ovviamente è anche piena di liti, incomprensioni, discussioni, discussioni che un mese più tardi arriverà proprio allo scatafascio quando Giulia Delellis decide di abbandonare lo studio dopo aver visto un'esterna di Andrea con un'altra corteggiatrice, un bacio appassionato. Lei minaccia di andarsene, lui la rincorre, lui con tutte le sue forze prova a non lasciarla andare e ovviamente lei poi ritornerà sui suoi passi, continuerà il proprio percorso, percorso che arriva fino a maggio 2016 con la scelta e la scelta fu proprio Giulia Delellis. È tripudio, tutte le ragazze da casa festeggiano perché guardano la televisione, guarderanno quella scelta, io penso che abbia fatto un monte di share, non lo so, tipo 26-27%, penso che quella sia una delle scelte più viste di quegli anni perché veramente raga, io non so se avete vissuto quei mesi o comunque quegli anni, le persone si erano ingrifate, si erano fissate con la coppia Giulia-Andrea, tant'è che appunto fu quasi festa nazionale quando Andrea decide di prendersi con sé Giulia e Giulia ovviamente accetterà di uscire con lui. Inizia quindi da questo momento una grandissima storia d'amore, quella che per tutti sarà una bellissima favola e durerà comunque su per giù quattro anni. Passa l'estate, loro la passeranno super affiatati, super insieme, facendo tantissime anche serate nelle discoteche di tutta Italia, anche perché lui è un DJ e a settembre sempre dello stesso anno Andrea Damante è chiamato a partecipare a quella che sarà la primissima edizione del Grande Fratello VIP, condotta da Hilary Blasi, sempre su Canale 5. Lui accetterà e quella sarà una delle edizioni più epiche del mondo, anche perché dentro la casa lui conoscerà Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti. All'epoca Asia aveva 19 anni, se non mi sbaglio, e partecipava in coppia proprio con sua madre. E giorno dopo giorno si vedeva proprio questo attaccamento di Asia verso Andrea e lei le dava molte attenzioni, ma che anche dall'altra parte Andrea sembrava non disdegnare. Insomma, ci stava un po' in questo nuovo feeling, in questo nuovo gioco. Tant'è, epica sarà anche l'entrata nella casa del Grande Fratello di Giulia De Lellis, inizialmente per fare una sorpresa al suo amato Andrea Damante, ma che passerà alla storia con una mega lite contro Asia Nuccetelli. Iconica sarà la frase, innanzitutto ti chiederei di ridare la maglia ad Andrea e se tu potessi andare a giocare un po' più in là, che tanto non ti preoccupa che tutta Italia pensano sulla cosa di te. Insomma, una cosa del genere. Se solamente potessi ridargli la sua maglietta e poi andare a giocare un po' più in là, perché comunque... Silenzio. Silenzio. Insomma, diventa una cacciara assurda e ovviamente questa sorpresa di Giulia De Lellis farà parlare nei giorni a venire perché diventa una osa super mega polemicosa, super mega criticata, ma al tempo stesso super mega amata perché appunto i fan della coppia Andrea e Giulia sono sempre di più, si alleano tutti insieme per formare un mega esercito e di lì a poco infatti elimineranno dal gioco sia Asia sia Antonella. Purtroppo però Andrea Damante non arriverà alla finale, non arriverà a vincere il grande fratello, ma questo non importa perché uscito di lì ovviamente la sua love story con la ritrovata Giulia De Lellis continuerà a gonfie vele. Passeranno infatti i mesi successivi pieni di impegni, pieni di ospitate, pieni di soldi, pieni di ADV, pieni di follower, pieni di post amorevoli, inondati di likes e commenti e quindi questa coppia stava diventando in qualche modo la Royal Family italiana. Anche perché vi ricordo che ancora non si stava parlando di Fedez e di Chiara Ferragni perché si sarebbero conosciuti un po' dopo. Quindi avevano la strada libera, ok? Loro erano la coppia del momento. Loro nel 2017 avevano tutti ai loro piedi, tutti li amavano e tutti volevano sapere sempre di più della loro vita di coppia, ma soprattutto della loro vita privata. Nel 2017 Giulia De Lellis si dice anche che abbia rifiutato di partecipare a quella che sarà poi l'Isola dei Famosi sempre su Canale 5 e inizia proprio da questo rifiuto il gossip che lei fosse incinta proprio di Andrea Damante. È un gossip, è una voce che si trasformerà in uno e vero spettaculess anche perché lo stesso giornale Chi dava per certa questa notizia. Tant'è che poi Giulia De Lellis tramite le sue Instagram Stories aveva prontamente smentito lanciando anche una frecciatina ad Alfonso Signorio dicendo guarda ritenta, sarai più fortunato. Nel frattempo comunque il profilo Instagram di Giulia De Lellis ha sempre più follower, riesce a raggiungere 4 milioni di follower anche grazie alla sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello VIP. L'anno dopo Andrea Damante infatti è la volta di Giuliona Nostra Nazionale a essere una delle concorrenti, una delle protagoniste dell'edizione successiva, siamo a settembre 2017, del Grande Fratello VIP. Anche questa passerà alla storia perché condotta ancora una volta da Hilary Blasi con Alfonso Signorini opinionista, ma nonostante anche Giulia non vincerà, sarà una delle protagoniste di quell'edizione. E vi ricordate la mega lite che ci fu tra Alfonso e Giulia De Lellis perché Giulia De Lellis fece uno strafalcione dicendo che non condivideva bicchieri di alcol o comunque anche sigarette con drogati e gay perché aveva paura delle malattie. Insomma ci fu un mega putiferio, un super is over party di Giulia De Lellis. Tu hai detto perché è solo il tuo fondria che ho paura di ammalarmi ed è una cazzata grande quanto una casa. Anche se vi devo dire, non è che l'abbia scalfita molto questo scandalo, ma anzi la sua popolarità accresce sempre di più grazie anche alle bimbe di Giulia, ragazzine compatte ai televoti che sostengono settimana dopo settimana Giulia nonostante tutte le polemiche e tutti gli strafalcioni che lei farà fino a dicembre inoltrato quando poi purtroppo uscirà dalla casa. Comunque come nell'edizione precedente lei sarà, ripeto, una delle protagoniste di questa edizione e una volta uscita ritroverà il suo Andrea Damante, ritroverà un'ennesima popolarità che diventa sempre più grande e la loro storia d'amore continua anche per i primi mesi del 2018. Ma ad aprile del 2018 c'è una prima battuta d'arresto. E qui dobbiamo bere. Shock, scandalo, tutta Italia è in lutto perché Andrea Damante tramite una sua Instagram stories decide di dire al mondo che lui è single, che la storia d'amore con Giulia Delellis purtroppo è finita. E dirà questo. Ci siamo lasciati per delle cose che non andavano più bene da un po', per dei meccanismi che ormai non funzionavano. D'altra parte Giulia Delellis subito dopo risponde e dice anche la sua, sempre sul suo social, dicendo questo. In questa situazione nessuno parla perché non conviene. Elementare, no? Se invece lo facessi io potrei disintegrare volti. Potrei rovinare famiglie, ma non ne ho voglia. Mi reputo di più. Damante mi rivedrà l'anno del mai, forse. E se da una parte, raga, Andrea Damante è stato un po' vago dicendo vabbè, doveva andare a finire così perché c'erano delle cose che non andavano più, dall'altra Giulia ci ha spillato il nostro tè quotidiano. Quanto ci abbiamo parlato, quanto abbiamo spettegolato in quegli anni sempre con Spillin the T su queste parole. Anche perché ci lascia intendere che la storia d'amore è finita per dei cornoni. Perché viralissima fu la sua frase, se parlo io rovino famiglie, che ci lascia anche pensare anticamente che c'era nell'aria un tradimento di Andrea Damante insieme ad una ragazza che all'epoca probabilmente sarebbe stata sposata, oppure sarebbe stata in un'altra relazione, oppure avrebbe avuto anche dei figli. Qualcuno fece il nome anche di Belen Rodriguez, ma notizia mai confermata fu prontamente smentita. Fatto sta che per il momento, nell'uno, nell'altra, hanno confermato le corna. Si lanciano queste frecciatine per settimane, ma nessuno ci dà conferma. E quindi? Questo fu il nostro pane quotidiano, perché loro erano la coppia, come vi ho già detto, più amata dagli italiani, ok? E adesso si erano lasciati per motivi non ben identificati. E quindi la nostra morbosità aumenta a dismisura, anche perché loro non ci dicevano nulla. Questa roba però va avanti per pochi mesi, perché arriviamo all'estate, sempre del 2018, e fai un Instagram stories qui, fai un Instagram stories di là, e like qui, e posto qua paparazzata di là, scopriamo che c'è un ritorno di fiamma tra i due. I due vengono ben presto paparazzati da tantissimi giornali, chi in primis, prima a passare una bella vacanza insieme in uno yacht, e poi a passare qualche settimana sempre in vacanza alla Spalmas. Ormai, per la gioia di tutte le bimbe di Giulia Delellis, la coppia sembrerebbe essersi appacificata, sembrerebbe riprovarci, sembrerebbe aver ritrovato un proprio ritmo e una propria passione. Ma la festa di paese dura poco, perché a fine estate i due si rilasceranno una seconda volta. Lui dirà, io e lei non stiamo più insieme, ci siamo chiariti però molto serenamente. Lei dall'altra parte risponde, è una persona molto importante per me, ma non c'è più l'amore, altrimenti non saremo arrivati a questo. La storia d'amore dei due finisce, ok? Per una seconda volta, ma questa volta sembrerebbe ovviamente essere la volta giusta, la volta del lui mi rivedrà nell'anno del mai. Anche perché lei inizia una relazione col cantante Hirama. La relazione però durerà pochi mesi, giusto il tempo di farlo tornare in AIP per farlo partecipare a Sanremo. Lei ricondividerà mille volte la sua canzone portata a Sanremo, mega di successo, ma poi anche questa storia naufragherà ben presto. Anche perché nella primavera del 2019 lei verrà ripaparazzata insieme ad Andrea Damante a Milano e uscirono delle foto che li vedevano comunque abbastanza appresi, no? Perché si limonavano, ok? Ma questo non si trasformerà in nulla di ufficiale. Anche perché a lui vennero affibbiati molti flirt con delle ragazze comunque abbastanza famose, per esempio Sara Croce, per esempio Paola di Benedetto. E lei invece, finita la storia con Hirama, si frequenterà per qualche mese con Andrea Iannone, che al giorno d'oggi ha una relazione comunque abbastanza duratura con la cantante Elodie. Andrea Iannone, io devo dire che ha buon gusto per le donne. Prima Belen, poi Giulia, poi Elodie. Bravo Andreone, nostro nazionale. Fatto sta, arriviamo adesso a settembre 2019. Come mai passiamo dalla primavera a settembre saltando l'estate? Perché i due ormai separati, lei relazione con Andrea, lui molti flirt a giro per l'Italia, oltre alle tantissime serate per le discoteche, ma finita l'estate arriva uno, non lo so come la posso chiamare, un reset culturale assurdo. Perché Giulia Delellis fa uscire il suo primo libro? Avete capito bene? Giulia Delellis è riuscita a scrivere un libro, ovviamente aiutata, infatti verrà scritto a quattro mani, con un'altra scrittrice, anzi con una scrittrice, e questo libro si intitolerà Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza. Raga, è un reset culturale perché questo libro in pochissimi mesi, nei primi mesi di uscita, venderà più di centomila copie, facendolo diventare un bestseller in Italia, facendolo diventare uno dei libri più venduti dell'anno. Critiche a non finire, raga? intellettuali e acculturati che grideranno allo scandalo? Io lo avevo comprato, io ci avevo fatto mega video e lo avevamo analizzato in diretta, ma questo libro fece tantissimo successo, non solo perché lo aveva fatto uscire Giulia Delellis, che vi ricordo, nonostante la fine della relazione con Andrea Damante, è in questi anni sempre l'influencer più influente d'Italia insieme a Chiara Ferragni, ma questo libro fece scalpore, fece successo perché tutti noi lo abbiamo comprato, perché prometteva la storia, la verità, sulla fine della sua relazione con Andrea Damante. E promette questo libro, anche dal titolo, la verità, infatti, di Cornoni, che fino a questo momento aveva soltanto lanciato qualche frecciatina, senza mai dire veramente sì è finita per questo motivo. Se vi volete andare a recuperare l'analisi logica e grammaticale del libro Giulia Delellis che abbiamo fatto quell'anno, vi lo lascio qua sotto nell'info box e così potete andarlo a recuperare, potete andare a vedere, perché ci sono anche delle cose trash, ma anche delle cose super. Per esempio, lei poi andò anche a Verissimo, a presentare questo libro dicendo, in anteprima nel libro racconto anche di quando gli ho distrutto la PlayStation, di quando gli ho distrutto i vestiti, di quando ho visto e scoperto la miriade di ragazze con cui lui era stato, che alla fine avevo detto basta, non ce la fò più a chiamarle, basta. L'hype è a mille, anche perché settimana dopo Andrea Damante verrà chiamato, anche lui a Verissimo da Silvia Toffanin, e ammetterà di aver tradito Giulia Delellis. Ma lui, rispetto al libro, ammetterà di averla tradita soltanto due volte, durante delle sue serate, perché comunque la passione con lei era in qualche modo... stava scricchiolando. Abbiamo a questo punto, da una parte lei che dice, ripete ancora una volta, tornerò con lui nell'anno del mai, mi ha tradito milioni di volte, ci ho scritto un libro, ci monetizzo come Cristiano insegna, monetizzare sempre sul dolore, e lo sto facendo anche bene, perché il mio libro è best seller. Ok? Dall'altra lui dice, ok, sì, ha ragione, l'ho tradita, ma non tutte le volte che lei dice o che lei pensa, l'ho tradita soltanto due volte, ma perché la nostra storia stava finendo. Dove sta la verità? Non si sa, fatto sta che arriva marzo 2020, arriva il covid, arriva il lockdown, e i due, ben presto, tutti noi da casa, perché non avevamo nient'altro da fare, ulteriormente rispetto al normale, in quei mesi, abbiamo scoperto che l'anno del mai è arrivato, perché i due passeranno tutto il lockdown, tutto il primo lockdown, insieme. scusami, ci hai fatto un libro contro qualche mese fa, hai fatto un bucio grosso così a ogni intervista, dicendo non ci tornerò mai più, insieme mi ha fatto soffrire troppo, e poi ti ci rinchiudi in casa? Vabbè, il covid ha dato, il covid ha tolto. Fatto sta che però, con le restrizioni un po' meno restrittive, arriva l'estate, e i due si lasceranno, ma questa volta si lasceranno definitivamente, i due non torneranno mai più insieme, forse. Nel frattempo, lui inizierà un'altra grande storia d'amore, con Elisa Visari, mentre lei, ben presto, conoscerà Carlo Beretta, e con lui, ci passerà tutti questi anni, fino al 2024. La storia di lui, la nuova storia di lui, e la nuova storia di lei, sembrerebbero andare benissimo, fino a quando esce, i primi mesi del 2024, la notizia che Andrea Damante ed Elisa Visari si sono lasciati. I due non confermano, ma, nell'aria, circola il pettegolezzo che Elisa Visari avrebbe lasciato Andrea Damante, perché, anche, anche lei, tradita più e più volte, avrebbe, in più, trovato, sul whatsapp di Andrea Damante, delle conversazioni un po' compromettenti. E c'è che giura, e spergiura, che tra queste conversazioni ci sia anche una conversazione con Giulia dell'Ellis, che avrebbero fatto in cazzè Elisa Visari, e quindi avrebbero portato lei a lasciare lui. Questa cosa rimane, fino a questo momento, un gossip, perché lei non ha mai confermato quello che vi sto dicendo, quindi prendetelo con le pinze. Fatto sta, la cosa certa è che i due, Andrada Damante e Elisa Visari, si lasciano, ed Elisa Visari inizia a frequentare un altro ragazzo, che è Simone Susinna. Quindi, nonostante sia Elisa, sia Andrea, non hanno mai detto, sì, ci siamo lasciati, o si è scoperto, anche perché lei, è stata paparazzata più volte con Simone, che si limonavano un pubblico, quindi, non può essere l'amante, farai con lui adesso, è finita la storia con Andrea. Le bimbe di Giulia dell'Ellis esistano ancora oggi, ragazzi, e quindi, una volta fatta fuori quella che è diventata la nemica pubblica numero uno per la coppia Andrea Damante e Giulia dell'Ellis, in quanto, nuova fidanzata di Andrea, Andrea Damante è ritornato single e pronto per un ritorno di fiamma con la beniamina di tutte le bimbe di Giulia dell'Ellis, Giulia dell'Ellis. Ma c'è un problema. Giulia dell'Ellis sembra non essere intenzionata a ritornare con Andrea anche perché, vi ricordo, che ha una relazione ormai da anni con Carlo Beretta. Lo schiaffa su tutti i social, la loro storia d'amore, fanno anche molti viaggi, tra cui uno in Israele che porterà ennesimamente Giulia nelle prime pagine di tutti i siti di gossip piena di polemiche, tra parentesi. Ho smesso di seguirla, per quello. Ma nel frattempo lei fa uscire anche una linea di skin care, tra parentesi. ho comprato anche quella, ci fece anche il video. Insomma, andatevela a rivedere se volete sapere se mi è piaciuta oppure no. Ma, ragazzi, siamo sempre al giorno d'oggi, siamo sempre nel 2024, Carlo Beretta sparisce dall'Instagram di Giulia dell'Ellis e quindi si vocifera nell'aria che anche questa storia d'amore finalmente per i fan della coppia Andrea D'Amante Giulia dell'Ellis, ripeto, si sarebbe lasciata. Abbiamo la conferma. I due, Carlo e Giulia, si sono lasciati non sappiamo per quale motivo, ma, sempre voci di corridoio, vorrebbero la famiglia di Carlo Beretta contraria alla storia d'amore con Giulia dell'Ellis perché non la vedrebbero di buon occhio, non la vedrebbero all'altezza di suo figlio e quindi queste pressioni, queste liti avrebbero portato Carlo a dar retta alla famiglia e quindi lasciare Giulia dell'Ellis perché la colpa di Giulia dell'Ellis è essere Giulia dell'Ellis, ok? Ma, a questo punto, le bimbe di Giulia fanno due più due e dicono casualmente nel solito periodo sia Andrea d'amante sia Giulia dell'Ellis si sono lasciati. Vuoi per caso che si sono lasciati perché si sono rivisti e hanno un ennesimo ritorno di fiamma e probabilmente ci stanno riprovando ma non ce lo vogliono dire per non farci rivivere la loro storia d'amore che fu una favola e ci ha fatto sognare per tutti questi anni? Queste speranze sono state riaccese perché notizia di questa settimana Giulia dell'Ellis e Andrea d'amante sono stati paparazzati da una di voi parlare insieme in un bar penso parlare insieme in un tavolo penso in un bar video fatto di sfuggita fatto di sgamo diventato super iper mega virale soprattutto su TikTok si riaccende la speranza nei fan dei d'amellis si riaccende la speranza di tutta Italia in un ritorno di fiamma tra Andrea e Giulia ahimè però probabilmente queste speranze sono soltanto delle vostre fantasie in quanto investigatore social proprio in queste ore che sto registrando ha pubblicato questi Instagram stories in cui scrive smentisco al 100% un ritorno di fiamma tra Giulia e Andrea Damante si sono visti per delle cose private che hanno in comune niente di più peccato ora perché io do retta molto ad investigatore social perché questo nome lo abbiamo tirato fuori molte volte durante i Spilling the Tea che riguardavano Chiara Ferragni e Fedez e quando io vi ho riportato delle notizie che avevo ripreso dal suo Instagram si sono sempre rivelate vere al 100% alla fine e quindi chi sono io per dire no sta inventendo oppure si sta inventando le cose per il momento lui dice di essere sicuro lui ha smentito questo ritorno di fiamma Giulia e Andrea non hanno detto niente al riguardo come sempre ma la speranza dei fan dei Damelis è sempre lì è un fuocherello che non si è mai spento durante tutti questi anni e quindi molte persone sperano di ripassare questa estate del 2024 a spettegolare di una loro nuova storia d'amore insieme ovviamente ora la storia dei Damelis è questa io vi posso dire un unpopular opinion si ve la dico perché il canale è mio e dico quello che voglio ma perché tutti voi state sperando in un ritorno di fiamma ennesimo di loro due ma Poerini ma li volete così male cioè scusate ci hanno riprovato non una non due ma forse ben tre volte a rimettersi insieme tutte e tre le volte si sono rilasciati questa Poeracrista è stata ancornata per chissà quanto tempo e cioè anche monetizzato e quindi ha fatto del suo dolore un mega business ma perché volete che ritorni insieme a uno che l'ha cornificata che l'ha cornificata un milione di volte e soprattutto anche dall'altra parte perché volete che lui ritorni con lei se comunque ha avuto questo bisogno impelente di tradirla significa che non la voleva più insomma l'amore non gli basta ok e quindi perché volete inglobarli ennesimamente in una relazione che probabilmente sarà una relazione toxic sotto qualche punto di vista e che non li rende felici soltanto perché voi avete ancora nell'immaginario collettivo i damerlis di uomini e donne vi ricordo era il 2016 siamo al 2024 sono passati quasi 10 anni le persone cambiano è vero ma le persone crescono ma le persone vanno anche avanti basta io non ne posso più no nel senso ma anche per il bene loro la minestra riscaddata non piace mai a nessuno ok e vi ritorno a dire una mia massima ritornare insieme al proprio ex o alla propria ex è come quando voi avete venduto la vostra macchina che ormai è vecchia usurata e poi dopo qualche mese ci ripensate e l'andate a ricomprare avrà gli stessi problemi di prima ma nel frattempo si è fatta altri chilometri in più quindi non è mai un investimento sicuro non è mai un investimento bello ritornare con i propri ex se è finita una volta è finita due volte è finita tre volte ci sarà un motivo finirà anche la quarta anyway questa è soltanto la mia opinione ovviamente voi mi dovete far sapere qua sotto tramite commento tutto quello che pensate a riguardo la storia di D'Amelis al momento finisce qui fatemi sapere anche se secondo voi con quest'ultima paparazzata date retta a investigatore social che dice che non è un ritorno di fiamma ma sono solo cose tipo private no? lavorative e robe che hanno in comune oppure se pensate che gatta ci cova io aspetto con intrepida attesa di leggere tutto quello che mi scriverete mettete mi piace anche a questo video se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto per oggi è tutto la puntata di Spirit Story termina qua ci vediamo domani ciao 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 ciao